Buongiorno ragazzi, prima di lasciarvi al video voglio solo dirvi che il 28 ottobre alle ore 20 inizierà ufficialmente la quinta edizione delle Red Bull Factions con un format del tutto rinnovato. I temi che parteciperanno a questa edizione, li sono scritti così di posto legge, saranno i brigantini, i goschilla, i nut, che c'è anche The Game, tra l'altro mi faremo il tifo di lui, Paolo Cannone, eccetera, GG & Beer, Makers e Cyber Ground Gaming, che si scontreranno dal 28 ottobre, sempre alle ore 20, per 5 giorni totali ogni mercoledì della settimana. Vi lascio il link in descrizione nel caso in cui voglia di eseguirlo, io li seguirò. Buona visione ragazzi! What? Quare in un remade scelto? Ah beh, te l'ha sentata. Via! Secondo che è che vincere il mondiale ragazzi? Il più favorito. Perfetto che provi gli SKT? Mi fa senti, lì vuoi 500 euro? E io, vabbè, dimmi come posso fare per guadagnarmeli. Daniela, io pensavo tu fossi l'unico che amavo, in realtà, nel culo mi piaci, i soldi mi piacciono. E quindi? Quindi penso che dovremmo lasciarci. Ah bene, Giovanna, ci sta, ha senso, ha senso. Ha senso. Ma almeno te li ha dati i soldi, ho scappato, senza darteli. Eh? Te li ha dati i soldi, almeno. Che, che vuol dire? T'ha fatto una doppia in cul... Eri tu? No, te li ha dati i soldi quel signore o no? Eri tu? Te li ha dati a noi i soldi! E' vero che ho scappato! Eh, alla doppia in culata. Eh, eri tu? No! Dimmi la verità! Non ero, ma anche io non mi riconoscevi? Dimmi la verità, dove eri ieri sera? Ma non mi avresti riconosciuto. Dove eri ieri sera? Ma non mi avresti riconosciuto. Dove cazzo eri ieri sera? Ma è Rumia? E questo è Ryder, è Ryder. Picco, ma sei in giungla? Con chi, con chi usi il funnel? Quattro. Lulu? Ma deve prendere, Taric! Ok. Tu non mi avresti riconosciuto, fratello? No, no, no. Non mi avresti, non mi avresti. Eee, oee. E' mo'. E' questo, non me l'aspettavo. Nice. Questo, diciamo, non me l'aspettavo. Ah, non po', ah, non, erano cinque, che quattro? Erano cinque, dude. XD, biscuits. Stupido BB. Videogioco, prima volta che ci giocate non siete capaci. Poi, giocando, diventare... Valentina gioca da sei anni, sempre gold, quindi questa tesi non va bene. State brave a giocare al videogioco. E la giocata l'abbiamo fatta anche oggi. Dica? Lassatevi il sub e benvenuto alle gagne di gagne. Sembri quasi una persona seria con quella barba. Predicta. Più 23. Ah, scusate, ho messo fatto, ah, ok, aspetta, aspetta. Vi resto solo io. No, Romia. Mentre purtroppo perché ci sono persone tendenzialmente forti. Giocano, sono nuovo qui. Ho sentito che partirei Red Bull Factions. Ti consiglio un buon mid come Giovino. Purtroppo Giovino ha deciso di imbollare la presa e di... di non giocare. Dice, è impicciato, è impicciato. Vai a vedere se lo fa con Lili, eh. Ti giuro che se scopro... Se io scopro minimamente che Giovino fa i Red Bull Factions con Liliane... E gioca magari pure autofillato top... Succede un casino. What? Giovini, stai attento, eh. Giovini, stai attento se stai giocando col fuoco. Io ti... Sono già in team, eh? No way, dude. Stai dicendo sul serio? Stai dicendo... Questo sono in espertissimo, quindi rattato a rileggere di più. Cazzo, il problema è che in questo periodo mi sembra di non avere tempo di fare un cazzo. Porca puttana. Cioè adesso devo staccare. Devo farmi la cena perché mia madre, quella pezza di merda, va fuori e devo cenare da solo. E allora devo ristreamare. Devo caricare i video su YouTube perché oggi c'è uscito. Quindi oggi dovrò un game che va bene caricare su YouTube, metto la miniatura, fa le tag. Mi devo anche segare. Sì, sai ragazzi, anch'io mi seguo. Sì, anch'io. Scherzo ovviamente. Cioè mi seguo ma non dopo adesso. Forse sì. Botta la soul. LOL! Che timing ragazzi! E lo? E lo? E lo? No, plate, no. No, plate, no. Perché? E lo? E lo? Ehi! Ehi, 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 ehi! What? Avete intanto? What the fuck? Abbiamo perso, bravo cane. Complimenti cane. Non devi più fare il cinema, devi solo ucciderci. Che se ne è topside al salfar al Herald. Se non si sarebbe già sciovato? O magari halfk. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti